Salvatore Niscita dell'Associazione Commercianti, oggi un incontro per sapere come procederanno i lavori sul lungomare. Cosa vi ha detto l'amministrazione comunale? Siamo ritornati qua per la seconda volta a parlare con l'amministrazione comunale, con il sindaco e con il direttore dei lavori del lungomare, dicendo loro che abbiamo la priorità del lungomare primis e poi delle piazzette. Ora loro si sono presi l'impegno di finire entro il 31 marzo, metà della piazzetta San Pancrazio e il lungomare tutto finito completamente, togliendo le transenne e tutto il quanto, per poterci mettere a nostro agio per i tavolini, per fare la stagione estiva tranquilla fino a ottobre e poi riprendere i lavori a novembre di notte. Siete soddisfatti di quanto ha affermato l'amministrazione? Sì, abbastanza soddisfatti. Abbiamo preso l'impegno e speriamo che in porto questo impegno abbiamo preso. Avete buone speranze per la stagione estiva? Molte. Perché si prevede una bella stagione quest'anno, veramente. Più del 10% rispetto all'anno scorso. Grazie. Grazie.